Musica Siamo qui con Mauro Bertola da Virtus.mi Red 3 pari, oggi avete ciuffato un pari nel finale di gara è stato un primo tempo abbastanza blando per questo campo un secondo tempo invece bello battagliero un punto che forse alla fine non accontenta nessuno però forse è il risultato più giusto Sì esatto, non accontenta nessuno però data come si è messa la partita è il risultato più giusto in assoluto loro sono una grande squadra fanno fatica su campi piccoli perché sono tecnicissimi e atletici da loro è più difficile giocarla qui abbiamo messo in campo tutte le nostre forze del saper giocare su misure più strette Un campionato della classifica è molto compatta anche per quanto riguarda le squadre che sono alle vostre spalle obiettivo salvezza immagino da raggiungere il prima possibile Esatto sì, salvezza in assoluto e guarda lo dicevo proprio all'andata dopo la loro partita il campionato più difficile di Open A che si sia mai giocato non credo ci siano altre realtà due davanti che corrono come Lepri e un marasma in 6-7 punti come questo qui vinci una partita 6 quarto perdi quella successiva e sei quarto ultimo quindi sarà durissima fino alla fine ancora 9 Ma Virtus Miracca sta dimostrando anche di lanciare un sacco di giorni perché ne avete tanti in squadra avete dovuto fare di necessità virtù in base anche agli infortuni che avete avuto comunque c'è molto futuro dalla vostra parte C'è futuro, sì, è un progetto che è cominciato due anni fa io sono la chioccia che cerca di tenere insieme tutti questi ragazzi 90, 92, 94, 96, abbiamo in campo dei 97 è il futuro della società quindi cominciamo a buttarli in campo adesso per fargli assaggiare la tensione dell'Open A Perfetto, grazie mille Mauro e buon proseguimento Grazie, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti